Tg del 30 luglio, apriamo con l'euro. Bene Asta BTP, crollano i tassi, borse europee in rialzo. Non criticheremo la BCE nel caso in cui tornasse a comprare titoli di Stato all'interno del programma già varato, ai tempi di Jean-Gloé Trichet. È il messaggio che arriva da Berlino tramite le parole del vice portavoce del governo tedesco Georg Steiner, che ha anche sottolineato la fiducia nel fatto che la BCE prenderà le misure adeguate per arginare la crisi. Dopo aver confermato la linea di sostegno all'indipendenza delle banca centrale guidata da Mario Draghi, Steiner ha comunque ribadito anche l'opposizione di Berlino a obbligazioni comuni nell'area euro. Gli aerobond non sono nell'interesse del nostro governo. Siamo agli esteri con una notizia che giunge dalla Romania. Referendum Basescu si salva. La Romania rischia il caos istituzionale. Traian Basescu è salvo. Il referendum per confermare il voto di impeachment contro di lui non ha raggiunto il quorum. Il presidente romeno non sarà destituito. Secondo i risultati dell'ufficio elettorale centrale di Bucarest, gli elettori che si sono regati alle urne hanno sferato solo il 47%. La sagrande maggioranza dei votanti si è espressa a favore dell'impiccimento di Basescu, 87,55%, mentre ha votato contro solo l'11,12%. Il presidente della Romania, la cui destituzione era stata chiesta dalla maggioranza di governo di centro-sinistra, resta pertanto in carica, riacquistando i poteri che gli erano stati sospesi dal Parlamento il 6 luglio scorso. Manipolazione di mercato e abuso di informazione privilegiata. Come le agenzie di rating truccano i conti. Le agenzie di rating sono sotto investigazione. Tra le principali iniziative in corso, la SEC ha aperto un fascicolo nell'estate del 2011 nei confronti di Moody's per manipolazione di mercato. In relazione al rating applicato alle obbligazioni garantite da pacchetti immobiliari, gli ormai famosi MBS, che nel 2007, pochi mesi prima della dichiarazione di default sulle stesse obbligazioni, venivano valutati dalle agenzie di rating con la AAA. E' notizia di pochi giorni fa che il Dipartimento di Giustizia e la SEC americani stanno investigando su potenziali violazioni della legge federale in relazione al rating di prodotti strutturati da parte di Standard & Poor's. E siamo allo Sport Formula 1, Gran Premio di Ungheria. Vince Hamilton alle sue spalle, entrambe le Lotus. Alonso si contenta e si gode la leadership. Il GP di Ungheria, ultima prova prima della pausa estiva, vede il ritorno alla vittoria di Lewis Hamilton, ma soprattutto il ritorno tra le grandi della Lotus. Raikkonen e Grosjani infatti guadagnano il podio, giugendo rispettivamente secondo e terzo. Le Ferrari non mostrano i muscoli e per Alonso arriva un solo monico quinto posto, che gli permette di non perdere punti preziosi e di restare saldamente in testa alla classifica. Colpo di scena a pochi giri dalla fine, allora quando Fettel è tornato a box per cambiare gli pneumatici ed ha tentato, con una serie di giri record, di superare il pilota francese della Lotus. 6 secondi in tre giri per il tedesco, che però non è riuscito nell'impresa.